Misdraio giù, porto le braccia dietro la testa, piego i gomiti fino all'altezza delle spalle e lascio appoggiato l'avambraccio e il dorso della mano. Le spalle sono appoggiate al tappetino, inspira e soffia, inspira e soffia, inspira e soffia, appoggia bene i piedi, inspira e sale il bacino e resta là. Resta, resta su, spingi bene i piedi contro il pavimento, resta, respira e scegli giù. Piega solo la gamba destra e disegna dei cerchi, 1, 2, 3, 4, cambia giro, vai 1, 2, 3 e 4. Appoggia, piega e ruota, 1, 2, 3, 4, cambia giro, 1, 2, 3 e 4. Appoggia, porta le braccia dietro la testa, inspira, soffia via l'aria, stacca le braccia, la testa e ti siedi. Giri e ti metti in ginocchio, porti avanti la gamba destra, un angolo di 90 gradi e un angolo di 90 gradi. Gli ispiri, soffia e salgo, porto le braccia in fuori e andiamo a toccare lato, 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 lato. Appoggia le mani, punta il piede dietro, distendi e torna, distendi e torna, distendi e torna e ti metti in ginocchio. Cambia gamba, un angolo di 90 gradi con il ginocchio davanti, un angolo di 90 gradi con il ginocchio sotto. Distendi le braccia in fuori, tocchi, 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 giù, 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 vai 3, 2, giù, 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 appoggia le mani, punta il piede dietro e distendi tutte e due le gambe. Uno, torna, uno, torna, uno, torna, torna in ginocchio, appoggia le mani, stacca tutte e due le ginocchia e distendi le gambe se riesci. Portati in avanti e zero, torna. Sciogli le spalle, inspira, soffi e sale, ruota, soffi e sale, ruota, soffi e sale, ruota. Inspira, spingimento contro lo sterno, gambe tese e vai giù prima, toglie. Memorizza dove sei. Se va un po' meglio rispetto all'inizio, usano tre stali. Sciogli, 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 inspira. Soffia e sale. Inspira, cresco. E vado indietro. Torno, porto giù le braccia, sciogli, sciogli, sciogli. Mio sopra il mento, una volta. Torno. Sciogli, sciogli, sciogli. Tutto bene, Pino mi dai l'audio? Torni anche tu. Bravo! Brava, ciao! Brava, bellissima! Ciao, grazie! Bravo, ciao! Un attimo solo! Ciao, grazie! Aspettate un attimo! Ah, aspettiamo, aspettiamo! Non ristaccate! Aspettate! Pimpino, ciao a tutti! Tutti! Sì, un attimo, ho messo muti tutti. Ok! Ok! Ok, adesso ci sediamo tu in primo piano. Ok, state bene! Non lo sappiamo perché hai tolto l'audio. Allora, adesso mettetevi in una posizione, devono mettersi. No! Vuoi fare la foto? Vuoi fare la foto subito, però devo chiedere a tutti quanti di mostrare il video, o almeno la foto, così volevano fare una foto tutti insieme. Quindi se potete attivarvi. Nel frattempo, Valentina, vuoi dare gli appuntamenti per le prossime cose? Noi poi manderemo sempre il link sulla Zoom per come può essere il, diciamo, la... come può essere i prossimi appuntamenti che faremo e... 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 e buon. Se vuoi dargli i prossimi appuntamenti, Vale? No, non so. Hai fatto tutto? Aspetta, ma fino c'è... No! Fino ciao! Fino ciao, sì! Ho avuto qualche problemino... Adesso si continuano... Probabilmente eravamo tantissimi collegati... Anzi, senza probabilmente perché siamo arrivati ad essere in 70, quindi voglio dire... È stato un numero... Molto, molto elevato. Allora... Vale, hai già dato i... I prossimi orari? Sì, li ho già dati, mercoledì alle 11, venerdì alle 6. Ok. Gisto? Sì. Noi possiamo sempre dare il link, quindi chiedete qui il link, o se non lo avete nei vari gruppi, basta appunto chiederlo e... E avremo tutte le cose. Hai fatto la foto? Non ho capito, scusami. L'hai fatta la foto? No, la devo fare, scusatemi. E la devo fare... Allora... Le faccio un pochettino... Allora... Aspetta, aspetta che mi metto la mano! Ok. Ovviamente devo farne più di una perché... Non ci stiamo tutti... Ogni videata... Mi fa 5... 10, 15, 20, 25... Quindi devo farne almeno... 3 videate. Vabbè... Come fa? Se io ne trovo così... Siamo... Sorriso tutti, primo sorriso tutti. Ok. Anch'io, io so. Aspettate un secondo. Dobbiamo farne tre, quindi... Secondo sorriso tutti. Ok. Terzo sorriso tutti. Ok. Perfetto. Dovremmo esserci tutti. Perfetto. Vi saluto. Ciao. Al golmetto tutti. Ciao, grazie. Vittori. Ciao. Grazie male. Grazie male. Alla prossima appuntamento. Grazie a tutti. Ciao. 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 Io l'ho fatto con gesto. Oh, non lo so.